Salusa 3 giugno 2011. Doveva giungere l'epoca in cui un maggior numero di persone sarebbe diventato consapevole del loro mutato livello di coscienza. Questo momento è ora arrivato ed il numero di tali persone cresce di continuo, mentre le energie indirizzate verso di voi diventano sempre più potenti. È questo l'aiuto inviatovi per garantirvi ogni opportunità di arrivare al livello ottimale per ascendere. Dovete, però, comprendere che nessuno è obbligato ad accettarle e che la decisione è interamente vostra. In ogni caso, lasciarvi andare e assimilarle alquanto rilassante e molto tranquillizzante. Alla fine, questo porterà a separare la gente in due gruppi distinti, quello che ascenderà e l'altro composto da chi ha rifiutato tale opportunità e scelto un percorso diverso. È giunto anche il tempo di meglio valutare e prestare attenzione a quello di cui avete bisogno, mentre vi state adattando ai nuovi livelli di coscienza, che vi faranno progredire. Esserne consapevoli è una cosa e metterlo in pratica è un'altra, ma così facendo migliore reste la crescita della coscienza collettiva. I regni materiali tendono ad incoraggiare il senso del possesso e l'egoismo allorché, se percorrete la strada della luce, il servizio del prossimo diventa il vostro modo naturale di progredire e, inoltre, fissa nella realtà la visione che state creando. Di fatto, avete al riguardo molto più potere di quanto crediate. Tuttavia, ascendendo cresce la vostra responsabilità riguardo alle vostre creazioni ad un livello più elevato di coscienza, ci si aspetta che abbiate acquisito un'altrettanto elevata comprensione, e che aspirate ad essere in armonia ed equilibrio con ogni forma di vita. Tutto quanto sta accadendo nella vostra vita e attorno a voi è per correggere gli errori e le colpe, che vi hanno portato a condizioni inaccettabili, e che appartengono al vecchio paradigma. Le cose devono cambiare e la pulizia deve essere completata prima che possiate ascendere con Madre Terra, mentre il vecchio sparisce ed il nuovo lo sta sostituendo, possono esserci momenti alquanto confusi se non addirittura caotici. Questo avviene, in parte, perché per la gente è difficile lasciar andare le cose cui è abituata e in cui ci si sente a proprio agio. Per questo motivo, noi insistiamo sull'elevazione, che accompagna i cambiamenti e vi spieghiamo in dettaglio cosa aspettarvi. Per questo, inoltre, vi parliamo di un fenomenale balzo in avanti che, in effetti, vi porterà a trarre profitto di aiuti, che altrimenti ci sarebbe voluto almeno un secolo prima che fosse possibile offrirveli. Ovviamente, teniamo conto della premeditata politica degli Illuminati intesa ad impedire ogni vostro progresso, senza la quale avreste potuto procedere nella New Age almeno 50 anni fa. Uno dei maggiori vantaggi, che vi è stato occultato concerne l'energia gratuita, che avrebbe risolto molti dei maggiori problemi, che oggi incombono. Qualunque siano le paure, che la nostra venuta suscita in taluni, resta che senza il nostro aiuto la vostra civiltà sarebbe crollata già da molto tempo. La pulizia della Terra, che per noi è di facile attuazione, per voi sarebbe un problema insuperabile per via della sua portata. Infatti, i vostri tentativi di ripulire il golfo dalla fuoriuscita del petrolio hanno creato ulteriori problemi, che potrebbero rivelarsi devastanti per l'ambiente. Non preoccupatevi, comunque, di queste conseguenze perché saremo con voi prima che diventino troppo gravi. Accenniamo a questi problemi soltanto per farvi capire quanto sia importante, che il nostro arrivo sulla Terra possa avvenire quanto prima. La divulgazione sta per essere annunziata e, per le autorità, sta diventando difficile nascondere ancora più a lungo la verità. La quantità delle informazioni rilasciate cresce di continuo ed un numero sempre maggiore di persone è pronto a far conoscere al pubblico quanto sa. Quasi ogni giorno venite a conoscenza di novità concernenti i cambiamenti e questo è un chiaro indizio della nostra attività e di quella dei nostri alleati. Gran parte del nostro lavoro si svolge tuttora dietro le quinte, perché non è ancora giunto il momento di rivelarvi troppo riguardo alle nostre intenzioni, basti dire che vi comunichiamo sempre in grandi linee le nostre intenzioni, affinché sappiate in quale direzione ci stiamo muovendo. La pressione esercitata sugli oscuri li sta portando alla disperazione, perché incapaci di eludere la capitolazione finale e la resa alla luce. Sì, carissimi, parliamo della luce perché siete voi che avete portato sul pianeta il suo potere, che ora sta frantumando e trasmutando le basse vibrazioni. Alla fine, non ci sarà più traccia delle vecchie energie, perché tutto sarà stato elevato. Parimenti, soltanto le anime che hanno innalzato le loro vibrazioni, potranno prendere posto nei regni superiori. In tali circostanze si applica la legge universale, che è assolutamente equa e fondata sulla volontà divina. Le leggi umane non sempre riflettono la luce nel modo in cui sono emanate e anche questo dovrà cambiare. Come vi abbiamo già spiegato, non appena possibile le persone ingiustamente in carcere saranno liberate ed il braccio della morte sarà chiuso, perché la pena capitale, quale punizione di crimini commessi, è del tutto contraria alla legge universale. Potete chiedervi cosa accadrà ai detenuti in tali circostanze, e la risposta è che saranno rieducati fino a quando nuovamente idonei a prendere il loro posto nella società. L'amore può compiere quelli che chiamate miracoli, e non esiste anima, che non traga vantaggio dal suo potere di suscitare armonia ed equilibrio. Amore e ancora amore è la medicina, che cura gran parte dei mali, ognuno di voi è virtualmente un guaritore e la vostra riluttanza ad ammetterlo deriva dalla poca fiducia nella vostra capacità. Cercate di guarire quando se ne presenta l'occasione, ricordandovi che siete capaci di guarire voi stessi. Le vostre convinzioni sono estremamente potenti ed è per questo che talvolta attirate a voi proprio quello che non volete. Per esempio, c'è gente, che ha gran paura di contrarre e una malattia grave e ne è tanto assillata da veramente finire per ammalarsene. Questo è un ulteriore esempio di quanto potenti siano i vostri pensieri e perché dovete essere molto prudenti su dove li focalizzate. Concentratevi senz'altro su tutto ciò che è buono e moralmente sano e questo avvantaggerà voi e chiunque altro. Quando lo fate in massa, il potere aumenta esponenzialmente ed è così che avvengono i grandi cambiamenti. Potete, dunque, rendervi conto di quanto importante sia il vostro contributo su quel che sta avvenendo sulla Terra proprio ora. Io sono il Siriano Salusa e vi garantisco che la Federazione Galattica è pronta ad entrare in azione a piena velocità non appena se presenterà l'occasione. Grazie, Salusa. Mike Quincy. Traduzione Costanza 2003